Allora, cerchiamo questo posto adatto, anche se, insomma, posto adatto per semplire un cadavere, non è che ce ne siano tantissimi Aspettate però, perché? Perché, 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 se non ci mettiamo a posto un po' la spada e spunta fuori qualcun altro, è ufficialmente la fine Quindi direi che questo qua Io tra l'altro voglio ancora provare la benedettissima pala per vedere com'è, ma non c'è stata ancora occasione Dunque Non credo che una panca sia un posto adatto Ma non è che è troppo vicino alla casa, è che è una panca Dunque, qua Ci sono delle rose Ma E allora, non va bene Guarda, gli piace sul cavalletto Tanto, abbiamo fatto più funerali noi da quando è iniziato il gioco Mi pare sia il terzo, questo Tutto considerato, anche tutta la trama di base Vabbè, siamo onesti, non conoscevo Iris Mi sembra un discorso funeo per piuttosto Posiamo il suo album sulla tomba Chiediamo se vogliono aggiungere Tu due, hai alcune ultime parole per la vostra mistrice? Non partiamo in rituali umani Confiazzi che ciò che hai fatto è in continuo con i vostri custom Mamma mia Vabbè Basta che non fanno un altro combattimento perché anche basta Mi è stato più che sufficiente quello di prima Cominciato ad avere paura Oddio mio Mamma mia Ma ce sente? Che cosa? Bello, spero A noi No, eh Proprio Ah, proprio Ma anche no Garalt Anche se forse ci potrebbe far scoprire qualche interessante retroscena Su tutta la storia tra lei e Holgerd Che a questo punto Eh, infatti Eh, infatti Eh, bella domanda Ma cosa? Vabbè Eh Ditemi di più di questo posto Questo punto Eh, in effetti Te pare Te pare Ho ucciso la guardia Ho ucciso lei Ho sconfitto lei Adesso Cioè Ancora Vabbè Una sorta di psicologo fantasy Vabbè E a questo punto Non che abbiamo Io mi armo di pala Niente Spectres Ha volgato E his wife But why aren't they moving This is a memory But it's incomplete Blurred You must peer closely And restore it Eh, quindi Noi abbiamo 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 Questa cosa Che è tavolozza da pittore Immagino dovremmo Darla a lei Tavolozza da pittore No E poi qua Lo spirito delle steppe Bene Se non sono reali Perché si muovono Non credo sia Molto propenso Holgerd Sprendito C'è tipo Una tormenta Non devono aver avuto Un rapporto Particolarmente Fantastico Vabbè Lo scopriremo Fra poco Comunque Vabbè Io Contro le api Non esiste niente Di meglio Ecco Ma posso? No eh Vabbè Che cosa Ah ok Tutto regolare Si Cosa dovrebbe essere Quell'affare Che si muove No 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 Un Oddio Oddio mio Cioè non bastavano le api Pure Vabbè 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 Basta con ste api Ma cosa Ma che effetto Strano Vabbè Vabbè Direi a questo punto Che procediamo Verso la luce Addio Ma quanti Un bicchiere Un bicchiere Un bicchiere E un vero Nuziale Direi che Possiamo agire Allora Io direi che Qui ci mettiamo Il bicchiere Ah basta Quello Che Eh tanto poi, chi li pulisce so io Niente, non bastava quello piccolo O pure quello grande Madonna Aiuto, aiuto Ma porcaccio Giuda Allora Mamma mia Santissima Fammi ricaricare sto scudo Via Aiuto A che era alt E ricarica un po' sto scudo Puttana Eva Niente, ma quanti sono? Sono troppi Mamma mia Scudo scudo Molta calma Mi facciamo tutti Forza Allora Questo è quello grosso Dovrebbe essere quello principale Se ammazzo lui Dovrebbero morire tutti Teoricamente Mamma mia Mamma mia Sarebbe un attimino il caso di Fare un attimino di meditazione Io quasi quasi Se me la fa fare Me la fa fare? Fammela fare un po' di meditazione Non si può fare Bene Ah però mi ha ricaricato come se l'avessi fatta Vabbè Meglio così Dunque qua Non credo ci sia nulla da prendere Per cui è inutile che vado a esplorare Allora Poi 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 Ma era previsto che accendessi queste cose? Probabilmente sì Credo Allora no Sono accese Due luci su Tre Eh sì Due luci Due candelabri su tre E quello spento è quello più lontano E Credo sia tutto Quindi questo va spento Poi 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 Vediamo un attimo se Ah ecco Il fuoco era acceso qua Ah Basta così? Stavo sarebbe stato più complesso E mi sa che non gli piace a Olgherd Eh appunto Come supponevo E cosa è questo? Abbiamo comprato alcune cose di noi Abbiamo comprato Un'altra cittura Un'altra cittura Un'altra cittura Un'altra cittura Ah E questo Per te Banknotte A me abbia dato parecchio fastidio Sinceramente È così È così È così Mamma E papà Mi ricorda Olgherd Ora Vedete la sua vera natura? Ti ho scelto Prima di Oddio Un ruffiano E un bordo Che mantiene La compagnia Di banditti Non è Non è Scusa Di vivere Un'altra cittura Con quella Rabbella? Perché i genitori Non si fanno Gli affaracci loro? Ecco Ti pare Ah Pensavo sarebbe stato Molto più complesso Sinceramente Niente Vabbè Quell'affare In stile Silent Hill Sarà Difficilissimo Da abbattere Già lo so Allora La stanza È questa Sì E qua È il momento clou Dove lei è morta Credo Asciugamare Insanguinato Lampada E Macchia di sangue I Che Siaggia E Le Siaggia O Inigmi Ma Cosa è Cosa? Siaggia Sio I Mi Che hai sulle Mi Cosa Adesso Cosa E È È Cosa Cosa? L face Mi Cosa a scrivere le lettere dovrei andare all'Oxenfert a presto magari dovrei venire con me è una idea meravigliosa un passaggio che farà con noi molto bene allora è deciso ora, è tempo per dormire non mi sento a dormire ora è fuori della questione vieni, dovrei finire il portretto ti dice che è stanco, andiamo a fare ritratto boh allora mamma mia vabbè, qua siamo in stile layer soffie livello in tableau è missing qualcosa fresco, come se qualcuno ha rinsato eeeh bicchiere eeeh io non ho minimamente guardato no, devo devo guardare un attimino il quadro allora non ci ho capito che era anche quando ho guardato prima per cui mi conviene riguardare allora il calice dietro la mela a destra e la frutta tipo uva a sinistra quindi uva, calice, mele allora quindi l'uva a sinistra poi la mela a destra la mela a destra e il calice al centro e il calice al centro andata? ok ok ah, è come si sorride a casa tua oh e ma saranno le quattro di mattina ma oh e mollalo un po' però eh io capisco tutto ma quanti altri ricordi dobbiamo questo spirito ignobile che continua a tormentare le mie camminate in questo luogo che palle via via allora allora facciamo dovremmo arrivare fino alla fine del combattimento così ma quanti siete? finiti? ok quindi adesso io direi che dobbiamo andare di qua e lei sta ancora lì dunque pentagolo pentagolo pezzo di jazz poi 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 candele di cera d'api e patti di sangue e patti di sangue e facciamo questa evocazione già ce l'ho e che ne so io dove vanno ah dovremmo forse leggere il documento devo pensare allora vediamo cosa dice cosa dice cosa dice il documento che abbiamo appena preso allora questo qua si allora chiunque evochi un visitatore nel nostro regno corre un grave pericolo e fin qua il visitatore proverà a liberarsi vagando come spirito nell'aria o possedendo il corpo di un ospite e se dovesse riuscirci questo scatenerebbe il caos vabbè pertanto per evocare un visitatore occorre contenerlo in un potente cerchio protettivo il cerchio deve essere completo e continuo senza fratture deve essere tracciato con mano ferma e dal momento che basta la minima imprudenza provocata da disattenzione da qualche trucco del visitatore per sbaffare la linea tutto intorno occorre formare un cerchio di candele di cera d'api accese tale cerchio costituirà una prigione sicura per il visitatore quindi intorno intorno al cerchio a questo punto mi sembra metti le candele sul cerchio che circonda il pentagono direi che abbiamo fatto la cosa giusta oh ma lo vuoi molla questa già che si mette a fare i quadri alle quattro di notte tanto bene non sta ma perchè giocare in questa maniera? non è che la capisco tanto come pratica ma chi sta evocando? oh cazzo eeeh dunque questo è chiuso benissimo quest'altro è chiuso arrivi benissimo eeeh calma e sangue freddo il quadro ma cosa sta succedendo? ma cosa sta succedendo? passiamo da passiamo da da un coso da un da un incendio terribile oh ma dove si entra? guarda guarda no eh ah ok trovato trovato miracolo sono sempre più confuso allora allora se lo sono svuotato boccale piva e e e e contratto di matrimonio un contratto di matrimonio allora immagino che il padre abbia in mano il contratto no ah si e lui avrà un boccale ma che situazione è? no 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 salvami dovresti restare qui sempre non dovresti aiutare ma che cazzo padre padre nooo servizio prendete questa cacassia e fedele per gli uomini oddio mio veramente una situazione veramente brutta io pensavo che fosse andata in tutt'altra maniera sinceramente considerando quanto sembrava tenerci lui a questa donna evidentemente mi sbagliavo capito che brutta situazione dovrei sapere chi è questo mamma mia in silenzio prenderemo i nostri posti lo stesso come allora facciamo il resto non c'è nessuno che atmosfera gioiosa per un supo un grande bolo di cibo bene e che ne so il bastone di cibo no al custode li mettiamo no sta ceccando tutto al custode il bastone di cibo ok poi io vorrei dare la cosa al cane si può scuotella grande credo che questo era il vostro e il gatto è qua e gli diamo la scuotella piccola ecco fatto avete appena cibo di queste cibo? ovviamente non ho già detto che non siamo animali ma il servizionista lo scuotellino un'altra monstrosità ti prego di stoppare questo questi due sono troppo che è il cibo e il cibo guardano la scuotella ma che cazzo l'aveva cominciato a fare ma che schifo è prima volevo sapere non 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 Mamma mia. Che bel rapporto d'amore. Sì, ma non ci hanno fatto capire per quale cazzo di motivo... Non riesco a capire cos'è che l'ha fatto diventare in quel modo a lui. Cioè, speravo che questa situazione ci avrebbe chiarito almeno questo aspetto, ma... Noi siamo dove dovremmo essere, ma io non vedo nulla. Ah, ecco. Un attimo, un attimo. Arriviamo. Mamma mia. Qua è il momento Silent Hill, praticamente. Mamma mia. Mamma mia. Perché non mi sono potenziato? Vabbè che tanto... Oh, cazzarola. Mamma mia. Ma... cazzarola. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia.